Sono il dottor Doc Robey, il re dei ladri. So dove si trova la Doc Rostone. A quanto pare quando i frammenti si avvicinano, alterano il corso del tempo. Si assembleranno i quattro pezzi, sarà il caos totale. Può sparire l'intero pianeta. Mostratevi, Triodrombo! Chi va là? La Doc Rostone è nostra. Mi aiuterai a ritrovare mio padre. Cora! Gli Atta Man! Gli Atta 1! Gli Atta 2! Al vostro servizio! Ti aspetti, salta su! Semi sdrago, aiutemi! Il Triodrombo e gli Gli Atta Man nello scontro finale alla ricerca della Doc Rostone. Spingi! Sporalo! Spingilo! Per questo io vi punirò! Yatta! 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 Man! Tutto il mio cuore dovrebbe appartenere al re dei ladri, non a te. Perciò ora ti punirà, rubandoti il tuo. Tratto dalla divertente e originale serie animata, finalmente il film! Finché ci saranno gli Yatta Man, l'ingiustizia nel mondo non triunferà! Yatta Man! Buoyaki! Don'tsula! Siete pronti per la battaglia finale, Yatta Man? Con vero piacere! Abona Man! Siete pronti per la battaglia! Buongiorno! Grazie a tutti